Buonasera, Social Network è un film che da qualche giorno è in proiezione nelle sale cinematografiche e si occupa, parla proprio della nascita e delle proporzioni raggiunte dal più grande network a cui partecipano milioni di persone, soprattutto giovani. Questa sera Anthropos se ne occupa perché vogliamo affrontare il problema della dipendenza dei giovani proprio dalle nuove tecnologie. Mi diceva si occupa delle prime visite a questi ragazzi che vengono già riconosciuti dipendenti. Di che età stiamo parlando e soprattutto tra maschi e femmine quali sono le percentuali? Allora, sicuramente sappiamo che l'utilizzo di internet negli adolescenti raggiunge ormai una percentuale che varia dal 70 al 90%. Si parla di dipendenza invece nel circa il 10%, quindi i techno abuser sono circa il 10% e soprattutto di sesso maschile. L'età più a rischio forse è quella che abbiamo riscontrato. Scusi, di sesso maschile i ragazzi più dipendenti, cioè quelli che partecipano di più al... Sì, parlando di dipendenza da internet. Quando diventano patologie insomma. Esatto, la prevalenza diciamo è per il sesso maschile. E l'età più a rischio forse anche in base al riscontro del nostro nuovo ambulatorio è fra i 16 e i 25 anni. Questa è l'età diciamo in cui sono più suscettibili a diventare dipendenti. Ma perché avviene di più ai ragazzi che alle ragazze? Ma sicuramente ci sono tanti fattori. È vero che l'internet è un fenomeno sicuramente dal fascino innovativo e che rappresenta proprio un po' il progresso e il futuro. Per cui si è diciamo predisposti e incuriositi da questo nuovo fenomeno. E ha anche molti vantaggi, quindi ha il vantaggio sicuramente di poter condividere... È anche molto democratico l'internet per certi versi. Sicuramente, la net democracy dell'internet in cui non conta il Stato sociale. Non conta nulla. Poi c'è anche la disinibizione garantita dall'anonimato. Noi abbiamo chiesto assieme all'Istituto Avogadro se era possibile lavorare assieme ai ragazzi per monitorare quale fosse effettivamente il fenomeno. Abbiamo chiesto ai ragazzi se potevano darci una mano dall'interno. Noi non siamo nativi digitali. Noi avevamo qualche anno e non siamo abituati a queste nuove tecnologie. Ma abbiamo il riscontro di quello che sono tutte le implicanze di ordine sociale, riguardo alla polizia giudiziaria, riguardo alle difficoltà di ordine relazionale. Ed è quello che è emerso attraverso questo progetto che abbiamo fatto, questi lavori che abbiamo fatti, li abbiamo fatti assieme. Noi, Nucleo di Prossimità e al Nucleo di Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche. Che sono quelli che si occupano proprio tecnicamente del lavoro vero e proprio. Noi ci occupiamo qui della parte relazionale. Noi abbiamo avuto dei risultati straordinari perché dalle dipendenze, come diceva la dottoressa, dal monitoraggio che è stato fatto, abbiamo dei ragazzi che hanno uno, due, tre, fino a sei, otto ore al giorno. Sono uno dei tre ragazzi che si è occupato della creazione e successivamente della gestione del sito che è in continuo aggiornamento. Infatti mi dicevi che quella è la tua vocazione, vero? Sì, la vocazione è lì in poi. Perché tu in realtà sei giovanissimo, hai 15 anni. Sì, 15 anni, frequento la seconda. Senti, ma nel gruppo dei tuoi amici, che poi vedremo perché siamo andati a intervistarli, voi, però onestamente, adesso anche se sei in presenza non solo degli spettatori ma anche del professore, no, ma in questo progetto siete, non è il primo che portate avanti, come Avogadro, quindi siete anche già più abituati, ma ci siete finiti perché eravate molto attratti dall'idea o siete stati un po' coinvolti, un po' così, siete stati un po' indotti all'inizio? Secondo me la partecipazione, che poi è stata abbastanza sostanziosa a questo progetto, è stata dovuta al fatto che questo progetto ha trattato una tematica per noi interessante ed è stato anche condotto in una maniera particolare perché non è stato il solito progetto dove avevamo di fronte un docente. Non eravate passivi. Sì, non eravamo molto attivi, non avevamo il docente che come al solito cala dall'alto la sua lezione, avevamo come delle persone con cui dialogare. Cioè la dipendenza e la teoria del modello biopsicosociale è più che mai valido, nel senso che quindi c'è una vulnerabilità biologica perché numerose studi hanno in effetti mostrato che ci sono delle alterazioni in alcuni geni di neurotrasmettitori, i neurotrasmettitori sappiamo che sono molecole che fungono da messaggeri fra le varie cellule, soprattutto a livello cerebrale, e in particolare ci sono delle alterazioni nei geni della dopamina che è un neurotrasmettitore coinvolto nei circuiti di gratificazione, piacere, nell'apprendimento, quindi ancora di più coinvolti nelle dipendenze. Però su questa vulnerabilità biologica, quindi può predisporre a un rischio di sviluppo di dipendenze, sicuramente i fattori sociali e i fattori psicologici che possono essere stati depressivi, stati d'ansia, stress, influiscono scatenando poi dei tentativi di autocura tramite queste dipendenze. Il progetto ha questo obiettivo, quello della divulgazione di quelli che possono essere i rischi, perché oggettivamente strumenti, le nuove tecnologie sono di fondamentale importanza anche per la divulgazione culturale, anche per la didattica, eccetera. Quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è quello che può essere la criticità dell'uso improprio di questi strumenti. Ovviamente in questo abbiamo fatto lavorare i ragazzi in modo autonomo e critico e immagino che le criticità che sono emerse da loro sono state senz'altro positive. Ebbè perché è ancora più possibile osservarli se si sente il loro punto di vista, che tra l'altro era quello che prima diceva Matteo, che io ho interrotto, ma perché eravamo stretti dai tempi. Però voi in questo progetto siete stati parte attiva? Sì, siamo stati molto attivi perché appunto ci hanno proprio chiamato a realizzare degli elaborati sull'argomento, quindi proprio degli iscritti che abbiamo poi presentato nella giornata finale, che sono stati completamente elaborati da noi ovviamente con supervisione e correzione da parte degli esperti. Abbiamo deciso di creare questo sito internet per spiegare ai ragazzi il progetto che ha intrapreso l'Istituto Avogadro quest'anno insieme al NIST. Ci sono le relazioni finali del progetto, quella fatta dal NIST e quella fatta dagli studenti dell'Avogadro. La polizia ci ha chiesto cosa facciamo quando utilizziamo internet, quando non utilizziamo i cellulari, quello che invece hanno voluto proporci per aiutarci. E come anche nella vita reale ci sono esempi di persone che sono state coinvolte troppo e quindi hanno avuto questi fenomeni di estrenamento e correndo anche rischi psicologici. Commissario, io vorrei il suo punto di vista sulla consapevolezza dei ragazzi e poi anche su tutti gli altri rischi di cui stiamo parlando, perché appunto noi adesso siamo radicati su internet, ma ce ne sono tanti di rischi. Sì, perché il discorso molto semplicemente è che noi vediamo i rischi, abitualmente, si vede il rischio di internet come i soliti discorso della pedopornografia, della pedofilia, che comunque è un fenomeno vasto, ma non poi così vasto. Diciamo che è quello che più emerge in realtà. È quello che fa più effetto. È quello che fa più effetto. Poi di solito quando capitano queste cose è perché, come diceva la dottoressa, c'è un fenomeno familiare, c'è una situazione familiare, per esempio, di assenza dei genitori. E quindi questi ragazzi si rifugiano in queste tecnologie perché non sono ascoltati, perché la difficoltà è di vivere in un contesto differente. Il lavoro che abbiamo fatto con loro è semplicemente fare agio sulla realtà delle cose. Siamo ormai persone di una certa età che sono dipendenti, dipendenti dal social network, dipendenti dal telefonino, dipendenti dai videogiochi. Lavorando con i ragazzi abbiamo scoperto che ci sono dei genitori che si alzano la notte, le tre del mattino, per andare in tabaccheria e comprare il videogioco prima che esca. Sapevo sempre da voi che addirittura uno dei cattivi costumi di questi genitori è di pagare l'accesso alla difficoltà ulteriore del gioco. È possibile? Certo, assolutamente. Ma si indebitano anche i genitori per questa cosa. È proprio una febbre sociale. Oppure bambini, ragazzi, che la notte si alzano alle due, alle tre di notte per sferrare un attacco a un videogioco. Progetto a costo zero per l'istituto, a costo zero anche per il comune di Torino, con la buona volontà del personale, in questo caso la mia buona volontà con altri insegnanti che hanno collaborato alle attività, la buona volontà dei ragazzi. Quanto costa un progetto così? Zero? In questo caso il nostro progetto zero. Adesso si svilupperà con la realizzazione di un video didattico divulgativo perché con la Polizia Municipale e con l'assessore Domenico Mangone ci ha dato un piccolo finanziamento per la produzione di questo video che poi sarà divulgato alle scuole, un po' in continuità con le altre attività che abbiamo fatto sulla sicurezza stradale. Perché il nostro elemento fondamentale, il mio in questo caso, è quello di far passare il messaggio della sicurezza. Dunque i ragazzi preferiscono Internet e il computer alla TV. Facebook e la rete si sono trasformati nei nuovi amici, in una sorta di nuova babysitter. E per la prima volta c'è stato il sorpasso di Internet rispetto alla televisione. Ma naturalmente la dipendenza da Internet ha fatto sì che sia nata una sorta di nuova comunicazione sociale con moderni strumenti di comunicazione che consentono anche di superare quelle che sono le barriere e i vincoli di tempo e di spazio. E fra i nuovi metodi di comunicazione Internet è certamente uno dei mezzi che offre maggiori opportunità. Tra atteggiamenti sociali, di attrazione, di diffidenza, il popolo dei navigatori quotidiani è cresciuto e comprende ormai ogni razza di ogni età e grazie alle reti anche i bambini trovano opportunità di gioco. Ma naturalmente gli internauti sono anche adulti e perfino i nonni telematici che si informano. È nata però una sorta di patologia, una sorta di Internet dipendenza, di retomania. E naturalmente questa patologia, come tutte le patologie, si estrinseca in fasi successive. Una prima tappa è quella di un controllo ossessivo più volte al giorno della propria posta elettronica. Poi c'è la tossicofilia dove noi sentiamo la necessità, il bisogno di essere collegati. E stiamo male quando non ci possiamo collegare ad Internet. Fino ad una fase di vera e propria rete dipendenza in cui si ha proprio un bisogno anche di alterare quelli che sono gli schemi di vita.